Musica Ben ritrovati cari telespettatori, questa è la Rassegna Stapa Occhio ai Giornali come tutte le mattine 7.30, siamo in diretta, allora partiamo subito dal Santo del Giorno perché poi vedremo le previsioni del tempo con le importanti novità che ci sono da segnalarvi e poi i giornali naturalmente, oggi è San Giuseppe d'Arimatea, il sole è sorto alle 6.29 e tramonterà alle 19.47 dicevo oggi è il 31 di agosto e potrebbe essere l'ultimo giorno d'estate, perché? perché stando alle previsioni meteo oggi avremo l'ultima giornata di sole poi dopo da domani, questa è la fotografia della giornata di oggi, avremo solo isolati piovaschi nel pomeriggio ma nelle zone dell'entroterra, poi domani dicevo il tempo cambia e eccola qua, questa è la giornata del 1 settembre cielo nuvoloso, transito di nuvole, stratificate, addensamenti nelle zone interne, pioggia dalla tarda mattinata brevi rovescio temporali più probabili sul settore centro-settentrionale della regione fenomeni che si esauriranno però in serata, le temperature in diminuzione nei valori massimi e stazionarie in quelli minimi, ma sabato continua il cielo perturbato con isolati brevi rovescio in particolare il pomeriggio, avremo sabato mattina ancora cielo nuvoloso con nuvole stratificate i venti saranno moderati, le temperature diminuiranno ancora, ma il tempo peggiorerà sensibilmente nella giornata di domenica, avremo un marcato peggioramento, domenica e condizioni di instabilità per l'inizio della prossima settimana, insomma giorni di pioggia, pioggia, pioggia che è benedetta soprattutto, e qui ci riferiamo, andiamo subito sul giornale, sul Corriere Adriatico, soprattutto da chi con la pioggia ci lavora e con la pioggia e grazie alla pioggia può lavorare, terremoto e alluvioni aggravano ancora l'emergenza nelle Marche, c'è la siccità che sta provocando una serie di disastri, nei campi cala anche l'occupazione, le aziende agricole perdono 2.573 addetti e la Regione chiede lo Stato d'emergenza, ma in primo piano c'è la polemica sui migranti, assedio criminale, colpa del Partito Democratico, Fratelli d'Italia va all'attacco dopo le parole del Ministro Minniti alla festa dell'unità di Pesero, che tra l'altro si uniscono, parole del Ministro che si uniscono ai disagi di Borgo Santa Maria, che hanno incendiato appunto la polemica politica, a provocarla, a lanciarla il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Antonio Baldelli, che lega l'immigrazione a specifici casi di cronaca locale, condannando appunto il Partito Democratico. Baldelli dice, viviamo l'assedio di una criminalità legata a una immigrazione senza regole, senza controlli. Intanto c'è una foto che pubblica il Corriere Adriatico, che mostra come alcuni profughi si rifornissero ogni notte nei bidoni dell'immondizia di Borgo Santa Maria, ben prima che esplodesse appunto il caso. E poi di spalle mangia le galline, lui cosa fa? Spara all'aquila, un aquilotto ancora giovane, che evidentemente non riesce a controllare e governare i suoi istinti predatori e dunque quell'aquilotto che andava a mangiare le galline nella settimana di ferragosto, ha fatto esplodere la rabbia ad un agricoltore che dalla finestra ha sparato con il suo fucile da caccia a questo aquilotto. E poi insomma è stato beccato dai carabinieri forestali, adesso rischia, rischia persino il carcere, 18 mesi, fino a 18 mesi di carcere, è una multa salata. La pagina di Fano del Corriere Adriatico si occupa questa mattina dei parcheggiatori abusivi al Foro Boario e nella zona vicino appunto al pronto soccorso. Criminalità e degrado, il sindaco usi i suoi poteri. Il centrodestra chiede l'applicazione delle misure del decreto Minniti. La carica degli 800 baby giocatori invece a pagina 35 del Corriere. Ecco la mappa insomma dove si può crescere a pane calcio. In città Fano sono diverse le scuole di avviamento allo sport, si inizia a 5 anni e i prezzi vanno da 270 a 500 euro. Apre equilibri per aggregare 15 ragazzi con disabilità. Al via sabato prossimo a Fano, centro lettura e cartoleria nella struttura anche tre contratti di lavoro. Una bellissima iniziativa che aprirà in via De Tonsis numero 7 appunto nella città di Fano. La prima pagina del resto del Carlino di Pesaro invece è per i vaccini. Vaccinazioni con proroga. Il Comune di Pesaro accetta all'autocertificazione con il termine eventuale dei free vax. Garantisce di fatto l'accesso a tutti negli asili nido e anche nelle materne comunali rinviando il controllo al 10 di marzo. Intanto sono tre i casi di morbillo dall'inizio dell'anno. Poi dicevamo della siccità, anche qui non piove da mesi, la siccità è senza fine. La Regione ha chiesto lo stato di calamità e poi l'aggressione in spiaggia. Verificate analogie con quella di Rimini, la pista dei telefonini sottratti alla coppia. Sopra invece mia figlia quasi in cometilico e nessuno chiamava i soccorsi nella pagina di Fano. Eccola qui allora la pagina di Fano con questo padre furioso che ha chiesto, arrivato in discoteca a Torrette, chi le dava da bere? Una quindicenne, la figlia in cometilico presa per i capelli e adesso c'è questo genitore che accusa. 15 ragazzi diversamente abili diventeranno talenti di libreria. Ha presentato il progetto per l'inserimento dei giovani nel lavoro, una biblioteca dunque speciale, 50 metri quadrati messi a disposizione in centro dal vescovo di Fano Tresarti. Sarà inaugurata sabato alle ore 16 in Via de Tonsis di fronte alla chiesa di Santa Maria Nuova. Questa libreria, cartoleria e servizi che ha come scopo impiegare ragazzi disabili. Spero che anche noi possiamo darvi questa notizia nel nostro telegiornale, comunque intanto ve l'abbiamo data sulla rassegna stampa. La mostra sul fascismo invece a Fossombrone, ancora polemiche. Il sindaco Grillino Bonci replica a Torrico e al PD e giustamente dice una cosa saggia. Insomma, criticate la mostra, va benissimo, le critiche ci stanno, ma almeno prima guardatela. Insomma, criticate dopo averla vista. Non si può giudicare solamente dalla locandina, si parla anche di resistenza, fascismo, che ancora fa paura. 3.000 chilometri in bici fino a Gibilterra. Invece la storia che troverete sempre sul resto del Carlino di oggi, su Pesaro e Pian del Bruscolo, ed è un'avventura che ha fatto per questo ragazzo per sensibilizzare la sindrome di Cornelia. Partenza da Tavuglia, 21 giorni per le colonne d'Ercole, fondi per dare un sorriso appunto a Martina, che vedete in questa bella immagine qua nel tondo. E questo invece sono i ragazzi che hanno compiuto questa impresa per sensibilizzare su questa malattia rara. Poi c'è l'aggressione invece quella in spiaggia a Pesaro, nella spiaggia del Sacro Cuore, e Pesaro chiama Rimini perché ci sono state, secondo gli inquirenti, ci sono delle analogie, un po' ai raggi X, tra i fatti della Romagna e la rapina a Sacro Cuore. Potrebbero arrivare dai telefonini rapinati gli elementi utili alla cattura. Ci sono indagini serrate dai carabinieri su questo fatto, di domenica scorsa all'alba i danni di una coppietta, 25enne, che si trovava in un lettino in spiaggia. Tre sono le persone ricercate, mentre sotto la polemica Baldelli, dei fratelli d'Italia, una provincia che sta scivolando nel crimine, drammatica escalation di episodi di violenza che vedono protagonisti sempre gli extracomunitari. Da Urbino invece, via le polemiche, ecco gli aquiloni, spettacola la fortezza, oggi show notturno, dopo il concorso dedicato a tutti i bambini, alle 4 di oggi pomeriggio la gara per il logo nel collegio Raffaello, domani invece a Mazzaferro. La pagina di Urbino invece del Corriere Adriatico sulle vaccinazioni per asilinido e scuole di infanzia, pochi i giorni utili, Tartaruga e Valerio, scadenza il 5 settembre, prima del 10 l'obbligo per l'istituto Coccinella. Il comune di Urbino ha diramato le norme per l'accesso agli istituti sulla scia della Profilassi che adesso appunto diventa vincolante. Basterà anche la prenotazione ma il tempo occorre per tutti, occorre soprattutto per tutti i documenti. Poi a Fermignano invece tempo fino ad ottobre per i più grandi, ci sono due mesi in più per alunni di superiori, medie ed elementari. La cronaca, la cronaca da Fermignano, scheggia impazzita sul nastro un operaio trafitto alla Guancia, un incidente alla VS, il 35enne è stato portato in eli ambulanza alla Torrette di Ancona, è successo appunto ieri mattina alla VS Infissi di Villafurlo, ne è rimasto vittima un operaio 35enne, non in pericolo ma comunque in codice rosso si tratta di Samuel di Acqualagna, trasportato poi con Lelli soccorso al reparto Maxillo Facciale dell'ospedale di Torrette di Ancona. Dalla Valle del Cesano invece la cacciata tiene a battesimo, il palio tra i borghi più belli, sabato la contesa con Corinaldo, Mondavio e Gradara, domenica la sfida fra le contrade. Senigallia invece alluvione, l'attacco del sindaco Mangialardi, poca chiarezza, io mai chiamato, è convinto di aver agito correttamente, riferirò al giudice, la verità emerga in tempi brevi e dunque Mangialardi va all'attacco dopo l'avviso di garanzie, comunque dopo il fatto insomma di essere tra gli indagati per il disastro avvenuto durante l'alluvione di qualche anno fa. E poi invece sulla pagina 39, sempre sulla cronica di Senigallia, si allarga l'indagine di Polizia e Guardia di Finanza su questi appartamenti che spesso sono un po' così, lasciano desiderare, per esempio questo è un garage camuffato, gli inquilini sfruttati e senza contratto. D'estate spuntano abitazioni addirittura ricavate dai box auto. Nelle stanze c'era altra gente e a volte dovevamo lasciarla, poi ci hanno cacciato, insomma c'è un sommerso quando si parla di vacanze, quando si parla di alloggi che spesso servono per fare delle vacanze molto low cost ma che poi c'è sempre qualcuno dietro che se ne approfitta. L'ultima pagina, Senigallia, sesso in vendita davanti ad un bambino. Babbo che fa quella signorina? La signorina è questa qui, la vedete nella fotografia che hanno scattato i residenti della Cesanella. Perché quel signore chiede lo sconto per dare un passaggio in macchina alla signorina? Questa è la domanda innocente o chiaramente di un bambino di sei anni dietro a quella domanda però c'è tutto un problema che a Senigallia è ormai annoso e si conosce benissimo. Il problema della prostituzione. Noi ci fermiamo qua, grazie per aver seguito la segna stampa, ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie.